Buon appetito! Guten Appetit! Buon Appetit! Xinjiang! Buon Appetit! Enjoy your meal! Sehawafia! Buon Proveggio! In tutto il mondo, Buon Appetito è un sentito augurio. Ma per 800 milioni di persone è un augurio che non può essere sentito. Nel mondo, una persona su nove soffre di fame. Il Milan Center for Food Law and Policy vuole portare ovunque il cibo e il suo diritto.